Allora, per l'amor di Dio, noi avremo due fine settimana decisivi, sono 10-15 giorni di sacrificio e potremo sapere se davvero abbiamo imboccato la strada a discendere e poi un poco alla volta possiamo riprendere anche le attività produttive magari in settori nei quali è possibile tutelare i lavoratori, evitare diffusione del contagio e quant'altro. Vi ricordo sempre, non lo dimenticate neanche per un istante, che siamo l'area urbana e metropolitana più congestionata d'Europa. Quello che in una regione un comportamento irresponsabile che in un'altra regione può determinare un danno 10 in Campania determina un danno 100. Io non ho voluto mettere in rete alcune filmatiche, mi sono arrivati, di comportamenti, volevo adoperare un... Siamo sotto Pasqua, lasciamo perdere un aggettivo pesante, ma cose che veramente gridano vendetta. Allora vi prego in maniera accorata di rispettare le regole. Noi siamo una grande famiglia, ci deve essere qualcuno che dovrà assumersi la responsabilità di prendere decisioni. E se si decide per un no, non è per uno sfizio personale. Vorremmo avere tutti quanti una vita più leggera, più serena, ma semplicemente per tutelare davvero i nostri cari, i nostri figli, i nostri anziani. Ci avviciniamo a Pasqua, vi faccio gli auguri anticipati, ma è un periodo delicato. Nessuno pensi di rilassarsi perché rischiamo di perdere tutto. Rimpariamo a fare pranzi come quelli che ci venivano offerti dalle nostre madri, dalle nostre nonne. Rimpariamo anche a fare i dolci a casa. Rimpariamo a fare le pastiere. Impegnatevi. Non ho l'audacia di dirvi mangiatele pure dopo, almeno le prime saranno la sozzeria. Ma vedrete che dopo i primi esperimenti impareremo di nuovo a fare pure i dolci in casa. Ma rimaniamo chiusi in casa. Allora cerchiamo di essere responsabili anche e soprattutto a Pasqua, quando potremmo avere la tentazione anche di uscire. Essere cristiani non è un modo di dire, ma è un modo di vivere. Noi testimoniamo al meglio i valori di fede, i valori cristiani, non se pensiamo alle cerimonie, ma se teniamo vivi i valori della solidarietà e della compassione. Essere cristiani significa tutelare la vita, la salute delle persone più deboli, che in questo momento sono le persone anziane. Allora io, nell'anticiparvi gli auguri e buona Pasqua, vi rinnovo l'invito ad essere responsabili, tutti a casa.